Eccoci ragazzi, telegiornale, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, è un po' che non ci si vede, questa settimana è stata un po' impegnativa, ma finalmente riesco a fare un video e vi volevo parlare di questa voce che si è diffusa in queste settimane, appena dopo purtroppo la nostra non qualificazione in Champions League. Sto parlando di un'eventuale rinuncia da parte della società Milan alla prossima Europa League. Ecco, io in questo video voglio dire perché secondo me sarebbe un errore rinunciare alla partecipazione, comunque una Coppa Europea, comunque una Coppa che dà prestigio al club, dà comunque delle entrate economiche. E proprio da qui volevo partire appunto dal primo punto fondamentale secondo me che è quello economico. È vero che non è la Champions League, l'Europa League, però secondo me dal punto di vista finanziario ed economico comunque ha delle entrate importanti attraverso quando giochi in casa oppure chiaramente dall'UEFA che ti dà comunque dei soldi per partecipare a questa Coppa. Il secondo punto, e qua me li sono segnati ovviamente tutti bene, è quello che riguarda l'immagine. Anche perché se il Milan dovesse rinunciare a partecipare a una Coppa Europea anche solo per una stagione sarebbe secondo me un danno d'immagine abbastanza importante per una società che si deve comunque rilanciare dopo stagioni che hanno visto rendimento altalenante da parte della nostra squadra. Il terzo punto, che è quello che mi sta più a cuore, è quello pratico e vi spiego qual è. È vero che possiamo rimanere fuori anche una stagione dall'Europa League, però poi se ci dovessimo qualificare, e questo è il nostro desiderio, la nostra volontà per la Champions League nella stagione che inizierà, ricordiamolo, ad agosto 2019-2020, rimanendo fuori un anno dall'Europa, il nostro ranking si abbasserebbe clamorosamente e rischieremmo poi un sorteggio veramente di fuoco, tostissimo nella edizione di Champions League 2020-2021, ovviamente sempre se ci dovessimo qualificare, quindi io penso che sarebbe meglio partecipare. Dall'altro lato ci sono ovviamente quelli che vorrebbero rimanere fuori dall'Europa League e dicono che in questo modo si potrebbero risolvere completamente e totalmente i problemi con l'UEFA, andremo ad azzerare praticamente questo debito, comunque questa pendenza che abbiamo ormai da due, tre stagioni con il massimo organismo continentale. Quindi ragazzi voi scrivetemi ovviamente che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io chiaramente penso che sia meglio partecipare, ripeto, è sempre una competizione continentale da prestigio, da soldi, da un ranking sicuramente importante nelle stagioni che verranno e che mi auguro ci porteranno a partecipare finalmente a questa agoniata Champions League. Ripeto, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate, nei prossimi video ragazzi faremo il punto della situazione sull'allenatore, sul prossimo allenatore del Milan, sul calciomercato in generale e appena uscirà la sentenza appunto dell'UEFA vi terrò aggiornati attraverso il canale ma anche attraverso il profilo Instagram, quindi vi invito a venirmi a seguire anche lì qui sotto in descrizione. Vi lascio il link, noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, lasciate un bel mi piace qui sotto, mi raccomando che mi aiuta tanto e alla prossima ragazzi, buona giornata a tutti!